Fontana Liri sarà uno dei 91 comuni della provincia di Frosinone che parteciperà alla Champion Soccer Cioceria, avendo dato anche il patrocinio della manifestazione ideata e organizzata dal Cavaliere Dante Abballe. Il sindaco della città che ha dato i natali a Marcello Mastroianni, Gian Pio Sarracco, spiega il motivo per cui ha deciso di partecipare alla manifestazione. Abbiamo subito aderito all'idea, all'iniziativa del Cavaliere Dante Abballe perché ci piaceva l'idea attraverso il gioco del calcio di unire i 91 comuni della provincia di Frosinone che si sfideranno in maniera leale per la conquista del premio. Ed è una manifestazione che riuscirà a veicolare molti messaggi positivi e quindi noi l'abbiamo da subito accolta e sostenuta con forza. Ribadisce che rafforzare l'unione tra i comuni può essere uno dei messaggi che può emergere da una manifestazione come la Champions Soccer Cioceria. Questo è sicuramente un aspetto molto lodevole di questa iniziativa perché appunto si è riusciti a mettere insieme tutti i 91 comuni della provincia di Frosinone che hanno aderito a questa iniziativa che promuove non solo lo sport ma anche appunto il territorio e in più il fatto che come premio è stato istituito un monumento artistico Questo è anche un modo per abbinare lo sport e l'arte visto che la nostra è una terra di artisti. Io in quanto rappresentante del comune di Fontanaliri per esempio sono orgoglioso che nel mio comune sono nati artisti del calibro di Umberto Mastroianni e Marcello Mastroianni. Quindi la nostra è una terra di artisti e quindi è un'occasione per veicolare anche e promuovere il nostro territorio. Sottolinea che attraverso questa manifestazione che coinvolge 91 comuni della provincia di Frosinone può essere esportata l'immagine della cioceria oltre i confini territoriali. Questa è un'iniziativa che ha un ampio respiro perché cerca di coinvolgere attraverso lo sport le realtà produttive del territorio, l'arte. È un'iniziativa ambiziosa che appunto sosteniamo perché crediamo che può essere un veicolo per aiutare il territorio. Il sindaco Sarracco spiega poi l'importanza del giuramento, una delle novità introdotte dalla Cavalier Atlante a Valle. Il giuramento è sicuramente un modo per veicolare nel modo giusto ai partecipanti e ai giovani appunto i messaggi veri dello sport. Altra novità introdotta nel torneo è il terzo tempo. Il sindaco di Fontanadiri ne sottolinea il grande significato. Il terzo tempo esprime appunto i sani principi che è appunto sulla lealtà sportiva e sulla correttezza e quindi anche per questo motivo la Champions Soccer cioceria merita un sostegno e un plauso. Sottolinea che a fine partita i giocatori vincitori e sconfitti devono ritrovarsi in segno di amicizia mettendo da parte ogni motivo di rivalsa. Amici più di prima perché nello sport si compete ma alla fine bisogna sempre complimentarsi e congratularsi con il migliore che vince sul campo. Il sindaco Sarracco spiega poi come si sta preparando la squadra del comune di Fontanadiri. Noi abbiamo affidato al nostro delegato allo sport che è anche un allenatore, Cristiano Grimaldi, il compito di selezionare una squadra e noi ovviamente vogliamo vincere, partecipiamo ma vogliamo cercare di arrivare fino in fondo alla competizione poi se non ci riusciremo comunque saremo i primi a complimentarci con i nostri avversari. Infine invia un messaggio al Cavalier Dante Abballe. Un forte e sincero ringraziamento per l'idea e per la manifestazione. Quindi un ringraziamento e un plauso da parte nostra, da parte del comune di Fontanadiri, il massimo sostegno.